La greca? Sì. La greca è il cognome? Sì. Bene, ma lei è italianissima, sento. Senta, io volevo fare un'offerta per il quadro Naif. Per il quadro Naif? Sì. Bene, per la signora Elisa, la nostra pitrice ospite di colori d'arte questa sera. Esatto. E lei, signora la greca, che cosa offre? Centomila. Centomila? Sì. Centomila, prima offerta per il quadro Naif della nostra pitrice. La ringraziamo. Grazie. E vediamo se sarà l'unica offerta. Io mi auguro di no. Lei comunque potrà passare anche alle prossime controofferte. Grazie. Arrivederla, signora. Buonasera. E allora torno nel mio salotto perché volevo tranquillamente da qui potervi presentare il nostro primo ospite. È un ragazzo che ha scritto canzoni per tanti suoi colleghi e adesso, come per molti altri, debutta invece come interprete di sue canzoni. È Corrado Castellari della Spaghetti Records che arriva con ancora non so. Corrado Castellari. È una parte del viaggio senza ritorno, senza contorno. Con il presente lasci il panorama, la sapienza dei grandi professori messi qui a sparare sugli errori. Corrado Castellari. Quando poi contro il cielo si spense la fucilata, vidi un pelo spaccato e la trave neanche toccata, neanche sfiorata. Ancora non so se bruciarmi in un chiaro palò, se morire del vuoto che ho, se comprare un sicario al mercato dei disperati e poi farmi ammazzare per pochi denari bucati. Ancora non so se bruciarmi in un chiaro palò, se morire del vuoto che ho. Con il presente lascio l'esistenza al sacro fuoco dei nobili dottori, su e giù, a rincorrere i dolori. Dove vado non c'è più bisogno di assistenza, o nemmeno a soffiare sul fuoco della scemenza, della demenza. Con il presente faccio testamento davanti a un cane che leggo il mio notaio, lui almeno non mi ha dato nessun guaio. E partendo saluto e mi firmo come dovere, pienamente capace di intendere e di volere, e di volere. Ancora non so se bruciarmi in un chiaro palò, se morire del vuoto che ho, se comprare un sicario al mercato dei disperati e poi farmi ammazzare per pochi denari bucati. Ancora non so se bruciarmi in un chiaro palò, se morire del vuoto che ho, ancora non so. Ancora non so. Ancora non so. E questo è vero, lo sai che devi venire qui al mio fianco col tuo microfonino, perché adesso... Anzi, prima di dare il via ancora alla slot machine, io volevo fare un altro giro velocissimo per colori d'arte. Chiedo scusa ai miei amici cameraman, ma vorrei inquadrare ancora una volta per un momento il quadro naif di Elisa Stoppaocca, che ha raggiunto per merito della signora Marisa Lagreca di Milano l'offerta di centomila, e ancora una volta l'olio 50x70 il contadino di Zeffirino Pollini, che ha avuto invece da parte di un'altra signora, questa volta si sono svegliate soprattutto le signore, l'offerta di 250 mila lire. Nel corso della trasmissione potete sempre chiamare e alzare le offerte per questi due quadri. Nel frattempo noi passiamo al primo impatto con slot machine di questa sera. Ancora sei ditte che si sono affiancate alla nostra manifestazione, ancora sei montepremi di centomila lire ciascuno, con la nostra deliziosa... come si chiama la tua collega Federica? Nadia. Ah, con la nostra deliziosa Nadia che avrà il compito di scrivere i nomi dei vari concorrenti che entrano in gara, d'accordo? Con i vari punteggi determinati dalle combinazioni della slot machine. E allora il primo gioco, come sapete, è riservato per il pubblico in sala e io faccio una domanda per tutto il pubblico presente. Ci sono tanti giovani, tanti giovanissime, anche presenti e allora chiunque sa rispondere a questo gioco, a questa domanda, cioè entra in gioco per la slot machine. Ha capito signora? Eh? Ma ha seguito? Parlo con lei? Sì? Ecco. Mi raccomando, mi risponda che magari gioca, ok? Lei? Lei non vuole giocare? Allora, come si intitola l'ultima canzone di Mattia Bazar? Chi è che l'ha detto? Vieni, forza. Velocissima la signorina, una ragazzina giovane, giovane, con una maglietta, arriva. Con quale dita ti vuoi abbinare? Vediamo di sceglierla. Vieni, vieni, vieni un momentino vicino al microfono, nel frattempo. Tu che ti chiami? Roberta. Hai già giocato un'altra volta, vero? Sei stata fortunata o sfortunata? Sì, sono stata fortunata. Allora, con che dita ti vuoi abbinare? Con Girani Interni. Con Girani Interni di Via del Teatro Garlasco in Pavia si abbina, allora il tuo nome mi hai detto? Roberta. Roberta, d'accordo? Con Girani Interni si abbina Roberta, è la nostra giocatrice qui presente, scelta fra il pubblico, perché ha risposto esattamente alle nostre domande. E allora ti lasciamo il microfono, puoi controllare e andiamo con Federico. Niente al primo colpo, niente neanche al secondo Roberta, niente neppure al terzo, sono fortunati di più i nostri corrispondenti telefonici oggi. Niente neppure al quarto, siamo alla quinta monetina. Aspetta, aspetta un momento. Ah, se non è sceso niente Roberta, mi dispiace. Credevo le due arance, le due arance ti portassero fortuna. Ecco, è sceso che cosa? Due monetine. Due monetine per Roberta. Vogliamo segnare, Nadia, due per Roberta, la nostra ragazzina scelta. Di dove sei tu Roberta? Di Pavia. Di Pavia. Che cosa fai? Vado a scuola, frequento la scuola. Sì, che classe? Seconda media. È stata promossa? Sì, bravo. Devo andare a vedere il 12. Ah, vai a vedere il 12, mi sembra giusto. Complimenti Roberta, tu intanto vai con due. E adesso accettiamo telefonate dalla rete di Pavia per il prossimo quiz e vediamo di farvi giocare. Eccola qui, pronto? Pronto. Buonasera, da dove? Sono Stefano, da Pavia. Ci abbiamo tante zanzare questa sera qui allo studio 3 di Telemonte Pennice. Vedi Stefano? Quacchete! Ecco, ne ho beccato una. Stefano, allora, il quiz che ti faccio è il seguente. Stefano? Sì. Sei in ascolto? Sì. Quanti anni hai Stefano? 12. 12. Benché sia una bestiola completamente inoffensiva, gli antichi attribuivano poteri magici a questa bestiola. come per esempio la capacità di passare in colume nel fuoco. Qual è questo animaletto? Salamandra. Bravo, bravo Stefano, è proprio la salamandra. E adesso ti inquadriamo le nostre ditte. Mi vuoi dire, Stefano, con chi ti vuoi abbinare? Aspetti che guardo. Eh, guarda, guarda, guarda. Cos'è la prima? La prima è Maluez, articoli sportivi, famosi articoli sportivi di Maluez. Maluez. Eh? Maluez. Allora, con Maluez, via Adorno, 65, Garlasco, che è sempre molto generosa e la ringraziamo per gli omaggi che continua a inviarci qui a Telemonte Penice. Allora, Stefano, Federica gioca per te. Ok, attenzione, abbiamo da battere un due punti di Roberta con due monetine. La prima monetina, Stefano, è andata a... Ecco, anche la seconda è andata a cattivo fine. Questa è la terza. Questa è la quarta. Federica è andata fortissimo stasera. Quinta monetina, Stefano. Ma tu le vedi le inquadrature delle nostre caselline? Ecco, Stefano, Stefano, ho buone notizie per te. Mi sono scese due, Stefano. Vediamo la prossima, l'ultima monetina. Vediamo, Stefano. Eh, Stefano, ti devi accontentare di due. Va bene. Eh, ti mettiamo a pari punti con Roberta. Hai visto Roberta poco fa che aveva vinto due monetine? Tu sei a pari merito. Stefano, rimani in ascolto, poi magari faremo una finalissima. Se nessuno vince di più, tu sei in gara con due monetine, ok? Ciao, Stefano, arrivederci, grazie di aver giocato. Ancora a rete di Pavia, il prossimo quiz, poi passeremo agli ultimi tre quiz per ascoltatori di fuori rete. Vediamo chi entra in linea. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, da dove? Da Pavia. Lei, il signor? Bruno. Signor Bruno, è quello di prima? Sì, esatto. Hai capito, il Bruno ormai si è affezionato. È ancora lì? Sì, sono ancora qui. Eh, la sento un po' lontana, Bruno, stia vicino al telefono. Sì, d'accordo. Allora, Bruno, mi vuole dire con quale ditta si vuole abbinare stasera? Ah, scusi, 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 scusi. Bruno, ha ragione lei, prima le devo fare il quiz. Ha ragione. Allora, Bruno, mi ascolta? Sì. Il famoso crollo in borsa di Wall Street nel 1929 prende nome dal giorno della settimana in cui avvenne. Sì. Come fu chiamato? Il venerdì nero. No, Bruno! Bruno, è il giovedì nero. Credevo fosse il venerdì. Eh, no, io c'ho proprio scritto qui giovedì. Bruno, come facciamo? No, no, niente. Mi dispiace, Bruno. Lei cosa aveva vinto prima? Ma il portagioie cos'è? Il portagioie, sì, perché con tre matrici là. Sì. È proprio giovedì nero, perché avvenne, credo, proprio in un giorno della settimana in cui era di giovedì. E fu chiamato storicamente il giovedì nero della borsa. E mi dispiace, Bruno. Ho sbagliato. Ho sbagliato? Alla prossima. Alla prossima. Arrivederci, Bruno. Pronto? Sono Angelo di Fignolo. Come? Sono Angelo di Fignolo. Angelo? Sì. Di Fignolo? Sì. Chignolo, ah, di Chignolo! Adesso ho capito. Hai dovuto fare il prefisso per parlare con noi? No. No, vabbè, allora ti faccio una domanda. Vorrei dire che per fuori rete rimangono due. Ne faccio una di riserva. Allora, il disco uscito tanti anni fa intitolato, intitolato Via Broletto. A chi appartiene? Via Broletto. Il cantautore italiano che ha inciso la canzone dal titolo Via Broletto. Poi ha inciso tante altre canzoni, molte dedicate a nomi di donna. Poi ha inciso che cosa si può fare con un albero. Chi è? Sergio Indrigo. Bravo, bravo, Sergio Indrigo. Allora, con quale ditta ti vuoi abbinare? Con quale ditta ti vuoi abbinare? Banni. 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 Pelletteria Banni di Piazza Vittoria Pavia. Sì. E allora scriviamo sotto a Banni il nome del nostro corrispondente, Angelo, e Federica comincia a giocare per Angelo, che si può vincere se fa più di due, un monte premi di centomila messo in paglio dalla pelletteria Banni. Anzi, duecentomila. Inquadriamo il premio anche. Intanto Federica gioca per te, caro Angelo, di Chignò. Eeeh! Cos'è sceso? Niente, ecco. Io credevo fosse sceso qualcosa. L'ultima? Angelo, è l'ultima? Sì. Angelo, non è sceso proprio un accidente di niente. Come la mettiamo? Niente. Ti ringrazio, Angelo. Tu parti allora con zero, ti faccio molti auguri. Ciao. Grazie, buonasera. E adesso aspettiamo telefonate da fuori rete. Quindi abbiamo due... Pronto. Pronto. Buonasera. Buonasera, è Bruno da Milano. Bruno da Milano, omonimo del nostro Bruno di Pavia. Io omonimo in alto. Va bene, signor Bruno. Lei in che zona di Milano vive? Via Broletto. Lei segue abbastanza Telemonte Penici, la riceve bene? Sì, bene, bene. Bene. Signor Bruno, allora il quiz è il seguente. È molto facile, signor Bruno. Lei mi vede anche? La vedo, la vedo. Ah, ha le finestre aperte perché c'è un'afa tremenda stasera. Bisogna aspettare il tramonto per dire che è il grande, infelice poeta, autore di Alle 5 della Sera. Chi è, Bruno? García Lorca. García Lorca. Che ditta mi sceglie, Bruno? Bagno Idea. Bagno Idea. E mi sembra giusto perché se vince, vince un monte premi di 120 mila lire che forse le nostre telecamere, se velocemente si girano alla loro destra, riescono anche ad inquadrare un bagno completo con specchio, porta sapone, porta salviette, porta sigarette, eccetera, eccetera, eccetera. Signor Bruno, allora l'abbiamo abbinato a Bagno Idea di Via Folla di Sopra, quindi cipa via e cominciamo a giocare per lei. Naturalmente gioca quell'incosciente di Federica. Speriamo. Speriamo in bene, eh? Speriamo in bene. Per adesso niente. Però, 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 due... Ah no, ci vuole l'ananas, non basta il limone. Eravamo lì, tra ananas e limone. Forza Federica, telefono da via Broletto. Ecco, signor Bruno. Quante ne arriva? Non è mai successo, signor Bruno. Mi dica. Questa è una botta di quelle favolose. Signor Bruno, mezza provincia di Pavia la odia, perché da Milano lei si porta via. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci monetine. Grazie a Federica. Signor Bruno, lei deve veramente... Io bacio Federica per lei. Contento, signor Bruno? Voglio dirle un bacio a Federica. Gliel'ho già dato, signor Bruno. Ma lei non era giusto, voglio darglielo io. Eh, lo so, guarda, allora, tre, due, cinque... Sette, tre, dieci. Sette, tre, dieci. Sono dieci monetine, quindi Bruno passa in testa la nostra classifica. Ce ne sono ancora due. Ce ne sono... Ah, beh, giochiamole, certo, 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 naturale. Mai rinunciare. La fortuna è cieca. Beh, dico, signor Bruno, sarebbe stato anche una fortuna... Eh? Vabbè, appunto, signor Bruno. Accontentiamoci di queste dieci... Siamo delle dieci, che... ...che la fanno passare in testa, e le dicevo prima che lei è fortunato perché si è abbinato col bagno idea, e guardi qui quale montepremi... L'ho già visto settimana scorsa. ...l'ho già visto a sua disposizione. È un montepremi che veramente vale la pena di considerare il più importante del nostro premio slot machine. Qui lei lo sa, l'ho già spiegato un'altra volta. L'ho già visto settimana scorsa, l'ho già visto. Ah, ma allora lei è un abitué, signor Bruno, ma lei ci segue tutte le settimane. Ogni tanto, ogni tanto. Ma come, se l'altra settimana era qui, diciamo tutte le settimane. Tutte, sì, beh. A proposito, Bruno, sabato prossimo non ci siamo, eh? Mi caro. Vai alla zanzara che mi sta a bemosicare. No, ci siamo venerdì. Venerdì, va bene. Venerdì 15, in modo che chi vuole fare il fine settimana a Premino lo può fare perché parte venerdì notte dopo aver visto la nostra trasmissione, ha capito? Allora qui c'è lo spiegato. Infatti io vado vicino a Premino. Ma va? Veramente? C'è tutto un giochino in queste mie battute, che dopo capirà poi il perché. Allora, a rivederla, signor Bruno, lei per adesso balza in testa la nostra classifica e si vince il bagno Idea con 120 mila lire di valore. Le ricordiamo che il bagno Idea mette a disposizione dei nostri amici telespettatori questo stesso premio in occasione del slot machine per tutta la durata della nostra classifica a 100 mila lire. E adesso la ringraziamo, la salutiamo e passiamo al prossimo. Lei rimanga in linea comunque con le centraliniste, eh? A te, sì. E aspettiamo la prossima telefonata da fuori rete che è già qui. Pronto? Pronto. Da dove? Da Cogiono. Cogiono, dov'è Cogiono? C, 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 Cogiono. Ah, C, 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 Cogiono. Provincia di Milano. Provincia di Milano. Mi dica, lei si chiama? Fammi parlare Daniele. Come? Fammi parlare. Ah, io ti faccio parlare finché vuoi, sto qui fino a domani. È una vita che sto cercando di mettermi in comunicazione con te da quando sei a Pelle Monteperi. Ah sì? Io sono. Allora ti meriti un applauso, guarda. Daniele. Eh? Daniele. Dimmi. Sono Piero Lucaccioni, il tetto in romano, l'amico delle mille battaglie di Riccione. Caro Piero, l'amico delle mille battaglie di Riccione, solo che andiamo indietro vent'anni. Hai ragione. Quasi quasi. Ma siamo sempre belli. Vabbè, grazie, se per te va così, io sono felice per te. Allora, caro Piero. Tu non ci hai cambiato minimamente. Ti ringrazio Piero. Allora vogliamo fare il quiz a Piero? Dimmi. Allora, il quiz caro Piero, risalendo ai tempi di Riccione, più o meno è lo stesso. Il nome risale alla Guinea africana, ma è tipica moneta d'oro inglese. Si chiama la? Stellina. No, 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 Piero, non mi deludere. Accetto anche la seconda risposta. Alla Guinea, scusa? Eh, risale alla Guinea, quindi si chiama? Ecco, in sala già lo stanno dicendo. Domano? Eh? Se il nome risale alla Guinea, si chiamerà quindi come moneta tipica inglese? Ehm, speria. Ah, ah, ah. Bene, Piero da Cugiono purtroppo non indovina questo quiz e mi dispiace, trattandosi di un vecchio amico di battaglie memorabili in quel di Riccione durante l'estate. Comunque, Piero, mi dispiace, ma sono costretto a toglierti la linea. Riprova magari da Cugiono, prova a ripescare il colo 0382, il 471001. Grazie, ciao, bene. Arrivederci, Piero. Ciao. Il quiz vale anche per il prossimo concorrente che arriva da? Pronto. Sì, buonasera. Pronto, sono Anna da Milano. Anna da Milano. Che zona di Milano, signora Anna? Baggio. Eh? Baggio. Da Baggio. Signora, io le rifaccio lo stesso quiz che non ha risolto il nostro Piero di Cugiono. Mi lasci finire la domanda. Il nome risale alla guinea africana, ma è una moneta d'oro inglese, cioè è la... La sterlina. Signora, ha appena risposto la sterlina il nostro Piero, amico di Cugiono. Ma non ho sentito, avevo il televisore... Aveva il televisore spento? No, avevo il televisore che non andava, sballava. E adesso si è messa ad andare perfettamente. Ma mica tanto. Allora, signora, io le rifaccio la domanda. Accetto la seconda risposta, perché questo quiz io lo credevo facile, invece si sta rivelando difficile. Il nome risale, insomma, la definizione di questa moneta risale alla guinea francese. Alla guinea africana, anzi. Ma è una moneta d'oro inglese, cioè la... La guinea inglese? La... Cos'è? Detti. Si consulti con suo marito, signora Anna. Questa ha mollato il telefono e se n'è andata. No, no, no. Mi dica, signora. Non lo so, non lo so. Ma mi aiuti? Signora, io l'aiuterei volentieri. Già in sala lo stanno dicendo in coro tutti quanti. E là... Dunque, lei provi a pensare guinea. C'è il nome di una moneta che richiama il nome guinea. E là? Sì. Là? Ed è una moneta inglese, signora. Della fine dell'Ottocento, per l'esattezza. Con la quale si facevano gli scambi anche nel Settecento. Sono le, la, le... Eh? Non lo so. Signora Anna, da Baggio. Da Baggio. Noi volevamo farla giocare alla nostra slot machine. Signora, sono le 10 e 40. Forza! No, non lo so. Non lo so. Grazie, signora, di aver giocato. Arrivederci. Grazie. Vediamo se arriva qualcun altro da Baggio, da Milano. Eccolo qui, pronto. Pronto, buonasera. Buonasera, da dove? Da Milano. Milano in che zona? Via Ingani. Via Ingani? Sì, dove c'è la metropolitana. Dove c'è la metropolitana. Lei si chiama, signora? Nuralina. Evelina? Con lei. Come? Ho già giocato con lei. Io ho già giocato una notte e ho vinto. Ah, lei ha già giocato con me? Io la sento malissimo, signora. Lei ha già giocato con me e ha già vinto. Sì, signor Piondi. Bene. Allora, lei si chiama? Lina. Lina. Signora Lina. Il nome risale alla Guinea africana, ma è una moneta d'oro inglese, cioè è la? La Guinea. La Guinea, signora. Sì, signora Lina, è la Guinea. Allora, con quale ditta, signora Lina, lei si vuole abbinare? Renato Sefu. Sefu. Renato Sefu. Renato, Renato, Renato. Il mio marittino mi ha detto di scegliere lei. Allora, magazzini Sandro. Ok. Abbigliamento uomo, donne e bambine. Benissimo. E magazzini Sandro di Pavia, con la quale abbiniamo la signora Lina, che chiama Davia inganni a Milano. Sì. E adesso gioco io o gioca Federica per lei? Sì, che mi ha portato fortuna. Va bene, signora. Gioco io. D'accordo. Sono sei monetine che introduciamo nella nostra slot machine. E via con la prima. Signora Lina. Sì. Niente da fare. Sì. E poi c'è il signor Bruno, che prima di trovare qualcuno che lo batte, il signor Bruno... Lo batte un po' difficile. Stasera viaggia tranquillo. Dieci monetine, si immagina un po' lei. Niente, signora Lina. Mi dispiace. Vediamo. Questa. Neppure. Io volevo dare la soddisfazione almeno di due monetine. Questa miseria. Niente neanche a questo. Signora Lina, è l'ultima, eh? L'ultima, l'ultima. Signora Lina, niente da fare. Mi dispiace. Lei aveva indovinato la Guinea, finalmente, che è una tipica moneta inglese, non dibattuta dalla zecca inglese di questo periodo, di questi anni, però è una tipica moneta inglese. La signora Lina aveva indovinato. Signora, sono felice di averla riascoltata, perlomeno al telefono. Le faccio molti auguri. Buon voto europeo per domani e ci risentiamo venerdì prossimo. Va bene, grazie al tristanto. Arrivederla. Arrivederla, signora. Ultima telefonata per l'ultimo quiz. L'aspettiamo da fuori rete. Eccola qui in arrivo. Pronto? 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 Vediamo se ci passano qualcuno che è in linea. L'ultimo quiz per abbinarlo con Massacarni, di Levata di Bosco Marengo, provincia di Alessandria, che mette in palio 100.000 lire di carni. Eccolo qui, pronto. Pronto? Eh, pronto. Pronto. Ma mandate non i bambini bassi, bassi, piccoli, piccoli, mandate le mamme e i papà al telefono. Pronto? Pronto. Da dove? Da Milano. Lei è? Rosa. Eh? Rosa. Rosa? Sì. Rosa. Quanti anni ha? Due. Eh? Undici. Ecco, undici. Undici anni. Rosa gioca e io a Rosa faccio il seguente quiz. Mi senti, Rosa? Sì. Bene. Io ti sento malissimo con dei sibili continui. Bisognerebbe che tu abbassassi un pochino il tuo televisore. Allora, Rosa, attenzione. Alle ore 22 e 42 ti chiedo, chi passa nel letto tutta la sua vita senza essere ammalato? Rosa? Aspetto, aspetto, aspetto Rosa, aspetto, aspetto 5-10 secondi massimo. Chi passa nel letto tutta la sua vita senza purtuttavia essere ammalato, che cos'è? Dio. Eh? Dio. Chi? Dio. Dio? Beh, Dio sta in piedi, a letto, sta alzato, sta sveglio. Non è comunque Dio. Rosa, mi dispiace. Arrivederci. Ciao, Rosa. Prossimo in arrivo da dove? Da Milano. Da Milano. Ti chiami? Bruno. Bruno, quanti anni hai? Eh, 14 quasi. 14 quasi. Stasera la sera del Bruno. Allora, chi passa nel letto tutta la sua vita senza essere ammalato, Bruno? Eh... È il... Il... Quello che scorre, 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 Bruno. Bruno, il fiume. Bravo, Bruno, bravo, bravo. Allora, abbinato con Massa Carni, Federica gioca per Bruno. Forza! 14 anni quasi per Bruno. Che vive a Milano dove? Da zona Corvetto. Zona Corvetto, benissimo. Ricevi bene Telemonte Penice? Sì. Sì, mi fa piacere. Ti piace Slot Machine? Sì. Lo vedi sempre? Sì, sempre. Guarda che la settimana prossima andiamo in onda di venerdì, eh? Va bene. Venerdì 15, perché i 16... Io tocco per le lontane. Allora, che cosa è sceso, Federica? Ah, Bruno. Bruno, tu sei fortunato, vedi? C'è poco da fare. Avresti vinto se un tuo omonimo non avesse avuto questa sera una fortuna maledetta. Bruno, hai fatto 5 come punteggio. Guarda, le vedi? 5 monetine. Eccoli qui. Sei abbinato a Massa Carni, segniamo 5. Ma purtroppo 5 monetine al nostro 14enne Bruno non bastano, perché l'altro Bruno milanese, di via Broletto, se non mi sbaglio, ha vinto con 10 monetine e si è vinto il bagno idea. Il premio che abbiamo inquadrato poco fa. E allora diciamo al nostro 14enne Bruno, grazie di aver giocato con noi e arrivederci. Sera. Bene, abbiamo così accontentato il nostro Bruno. Bruno, se volesse richiamarci, le confermeremmo che ha vinto il monte premi di 120.000 lire in vendita eccezionalmente nel periodo di slot machine dalla bagno idea a lire 100.000. Il nostro amico Bruno, che era intervenuto con la terza telefonata e aveva superato tutti con le 10 monetine della slot machine. Comunque la nostra scaletta a questo punto prevede un passaggio ai colori d'arte. E allora noi passiamo velocemente ai colori d'arte presentandovi ancora una volta il quadro Naif di Elisa Stoppa-Occa. Quotazione 900.000, no chiedo scusa, 1.200.000 lire in galleria e invece ha ricevuto un'offerta di 100.000 lire. Ecco qui l'olio di Zeffirino Pollini nato a Montepenice, ospite della nostra trasmissione questa sera con il suo olio contadino, che vedete inquadrato in questo momento, che ha raggiunto finora una quotazione di 250.000 lire. E Federica, voleva ricordarci da chi, ma abbiamo qualcuno in linea, pronto? Pronto, sono sempre Bruno da Milano. Ah, buonasera signor Bruno, lei è il nostro vincitore della slot machine, vuole entrare in gara anche per l'offerta dei nostri colori d'arte? No, mi spiace disturbarlo per i colori d'arte. Non mi disturba affatto. La ringrazio di avermi richiamato, allora se lei vuole mettersi d'accordo con le nostre centraliniste, lei ha vinto il Montepremi di Bagno Idea, di Via Folla di Sopra, quindi Cipavia, quello che le ha presentato... Sì, ha ragione, con la presentazione di vari ospiti premiati non solo per la pittura, ma per la letteratura, dello sport, cinema... Bene, grazie signora. La ringrazio di avermelo precisato, vedo che non arrivano telefonate, quindi a questo punto diamo un breve stacco pubblicitario ai nostri amici telespettatori, ci ritroveremo qui fra tre o quattro minuti per proseguire con il nostro programma presentandovi il Rebus per gli amici di fuori rete. A più tardi e grazie dell'ascolto. Bagno Idea, una scelta giusta per arredare il tuo bagno con raffinatezza. Ogni tipo di arredamento per bagno o doccia. Non esitare, vieni a vedere l'esposizione in Via Folla di Sopra, 15, a Pavia, telefono 0382-256-77. Malouet Sport, un grosso centro per tutti gli sport. Da Malouet Sport a Garlasco troverete tutto l'occorrente per l'abbigliamento sportivo, le migliori marche dell'attrezzo ed inoltre uno stand fornito di tutti gli articoli da pesca. Malouet Sport, tennis, calcio, pesca e tutto ciò che vi occorre per il vostro tempo libero. Inoltre, per un'eleganza sportiva, Malouet Sport vi offre un abbigliamento jeans and casual delle migliori marche a prezzi eccezionali. Ricordate, Malouet Sport a Garlasco in Viadorno, telefono 81630. Andrea Bettini, mastro pellettiere. Trent'anni di esperienza, di studio, di manualità precisa. Mastro pellettiere vuol dire conoscere i mille segreti di un'arte antica e sempre rinnovata. Andrea Bettini sceglie ad una ad una le pelli e segue scrupolosamente importanti momenti della lavorazione come il taglio e la lucidatura. Momenti importanti per la perfetta realizzazione di un confondibile accessorio. E quando una borsa è di prestigio, si dice Andrea Bettini e si firma Panni. Bottega artigiana Panni, Pavia. Girani interni, una ditta con molta esperienza artigiana e una moderna tecnica di impiego dei materiali per arredare. Girani, via del Teatro Otto, Garlasco. Girani interni ha sempre una proposta interessante, la soluzione economica e funzionale per soddisfare tutte le esigenze, ma soprattutto vi assiste dal progetto alla realizzazione completa del vostro arredamento. Girani interni, mobili delle migliori marche, moquette, tappeti, tendaggi. Girani interni, via del Teatro Otto, Garlasco, Pavia. La massa carne industria, produttrice di carni piemontesi, invita i macellai, gli albergatori e i ristoranti a visitare il suo stabilimento. Troverete tutto ciò che vi serve a prezzi sbalorditivi. Visitateci a Levata di Bosco Marengo a 5 minuti dall'uscita del casello di Tortona. Telefonate al 0131744275. Finalmente a Pavia, sono tutti d'accordo quando si tratta di affrontare la spesa per vestirci con gusto, qualità e prezzo. L'uomo, la signora e i bambini si recano in piazza Petrarca dall'amico Sandro. I magazzini Sandro offrono a prezzi molto convenienti, abiti per uomo delle migliori marche e inoltre troverete un ricco e fine assortimento di abiti da sposa e cerimonio. A pochi passi dal negozio potrete parcheggiare liberamente la vostra automobile. Inoltre troverete un ricco assortimento di capi in pelle, corti e lunghi e pelliccerie. Magazzini Sandro a Pavia, in piazza Petrarca 31, telefono 35456. Per questa pubblicità, trasmessa da Telemonte Penice, telefonare alla FonoVP, telefono 0382469347, Viale Montegrappa 26, Pavia. Bene amici telespettatori, siamo ancora una volta in diretta dallo studio 3 di Telemonte Penice, sono le ore 23 meno 5 minuti, squilli il telefono, io me l'ho messo in salotto tranquillo e invece devo scorrere. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove? Da Pavia. Signor, si chiama lei? Giancarlo. Signor Giancarlo, lei vuole entrare in gara per colori d'arte? Sì. Bene, mi dica. Vorrei il quadro delle neve, non il contadino l'altro. Allora, non il contadino, ma il quadro della neve, aspettando la neve, aspettando l'inverno, della nostra pitrice è arrivata a quotazione 150, lei che cosa offre? 250. 250 e lei e il signor? Giancarlo. Signor Giancarlo, rimangi in linea con le nostre centraliniste e la ringraziamo. Senz'altro. Grazie. E torno nel mio salotto per dirvi che sono le 23, questa volta meno 5, 4 minuti e mezzo, del sabato 9 giugno, una notte calda a Fosa, che preannuncia e così ci fa ricordare che siamo in pieno clima di vacanze, in pieno clima di programmazione di nostri itinerari turistici. Ed è per questo che Telemonte Penice, sempre piuttosto ligia agli appuntamenti con posti carini e accoglienti, ha fra i propri ospiti questa sera in prima fila una coppia di personaggi che vengono da una località molto simpatica, molto giusta. Io vorrei invitare il sindaco e il presidente della Proloco di Premeno. Ecco perché poco fa parlavo di Premeno e vogliamo dare un momentino, un'occhiata a questa località sul Lago Maggiore, vero dottor Sidola? Sì. Lei è il presidente della Proloco di Premeno e invece l'ingegnere... Sono il sindaco. Il sindaco. Ragionier Siracusa. Ragionier Siracusa è il sindaco di Premeno. Come sono andate le elezioni, signor Sindaco? Non comment. Non comment, vabbè, non comment. Allora, dottor Sidola, parliamo di questa Premeno che si trova esattamente dove? Premeno è a 900 metri di altezza sulle colline sovrastanti Verbania sul Lago Maggiore. È un paesaggio stupendo, si estende su un altipiano che ha le spalle dei paesi rivieraschi del lago. È unico per la sua bellezza, ampiezza, possibilità di ricezione per chi ci dovesse trascorrere vacanze o passare anche giornate belle. Praticamente sopra intra, no? Sopra intra. E quindi si domina tutti i Lago Maggiore. Ci si va comodamente da qualunque parte della Lombardia e anche da altre regioni, volendo. Sì, prendendo il traghetto da Intra a Premeno. Il traghetto da Intra, cioè dall'Aveno a Intra. E poi salendo in dieci minuti di macchina ci si arriva, oppure col pulma di linea. Oppure facendo il lungo lago si sale da Verbania. Lo stesso punto. Ragionier Siracusa, quanti abitanti fa Premeno? Il paesino è piccolo, gli abitanti sono 900 circa. Però diventiamo numerosi d'estate. Accogliamo circa 6.000 persone. Giugno, luglio, agosto e settembre sono i quattro vostri mesi. Giugno, luglio, agosto e settembre sono i mesi in cui Premeno veramente rinasce. Rinasce. Io so che c'è un motivo particolare per cui voi siete questa sera qui a Telemonte Pellice. Un motivo particolare è questo. Una conoscenza occasionale mi ha messo nella condizione di poter avvicinare il signor Daniele Piombi. E quindi Telemonte Penice. E quindi Telemonte Penice. Con la possibilità di avere domenica 17 apremeno un grande spettacolo all'aperto. Che sarà ripreso da Telemonte Penice. Che sarà ripreso da Telemonte Penice. Ah, ecco allora. Direttamente da Telemonte Penice. Ed è domenica 17 giugno a che ora? Alle 3 e un quarto del pomeriggio. Alle 3 e un quarto del pomeriggio comincia questo grosso spettacolo. Ci sarà Rosanna Fratello con la sua orchestra, il duo Fatebene Fratelli, Franco Rosi, poi Santino Rocchetti con il suo complesso. Giuni Russo. Giuni Russo, poi Laura Luca. Laura Luca. E poi c'è Cristian anche. E c'è anche Cristian. Naturalmente c'è anche Daniele Piombi che dirige presente. E ci sono le telecamere di Telemonte Penice. Esatto. E io so che, che cos'è questo? Questo non volevo farglielo vedere perché vedendo che ci sono dei quadri molto belli, non volevo... Beh qui ci sono dei quadri d'autore. Ecco, volevo esibire Premeno così. Ah, presentarci Premeno. Esatto. Ah, voleva presentarci Premeno. In un poster che abbiamo realizzato quest'anno. E' una splendida photo color che vi dà l'idea e la possibilità di vedere il paesaggio che si domina da Premeno verso il lago dalla parte dei monti. Credo che questa sia una foto fatta proprio dal palazzo municipale di Premeno. Esatto. Se non mi sbaglio. Esatto. Bene, e ci rivedremo allora con le telecamere di Telemonte Penice, con tutti gli artisti della musica leggera, in quel di Premeno, domenica 17 giugno, dalle ore 15 in poi. So che c'è una specie di festa popolare, di sagra. Sì, 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 che anticipa la vostra manifestazione. Sì, e consistente in bande, concerti. Dunque c'è una banda e la banda poi, il tutto sarà lietato da una copiosa razione di salsiccia a tutti e del buon vino, dell'ottimo vino. Salsiccia, vino e in un parco stupendo. E tanta allegria. E in un posto stupendo. Il posto forse lo si vede dal posto. Ah, lo si vede anche nella posta? Sì. Qual è? Eccolo, è questo qui. Ah, è qua proprio sul monte, come si chiama questo? Domina il lago, il monte San Salvatore. Sul monte San Salvatore, qui su questo spiazzo, avrà luogo lo spettacolo per il quale, amici telespettatori, voi stessi siete tutti invitati, ospiti di Premeno quel giorno. Premeno, vi dicevamo, si raggiunge abbastanza velocemente dall'Aveno con il traghetto che porta Intra e poi in 5 minuti si raggiunge questo paesino molto tipico, molto caratteristico del lago Maggiore. E che offre domenica 17 giugno questa festa popolare con salsicce, vino, Rosanna Fratello, Santino Rocchetti, Laura Luca. E Daniele Piombi. E dai, e continua a insistere il nostro dottor Sino. Poi mi sembra che ci siano altri spettacoli previsti in luglio, in agosto, in settembre. Prendiamo di avere un altro spettacolo notevole. Avete avuto un concerto del Teatro La Scala. Sì, abbiamo avuto il 29 aprile un concerto del Teatro La Scala, il coro per la Petit Messone Nel di Rossini. Sì. Con il maestro del coro, che è Romano Gandolfi, che è un caro amico, e i 24 coristi e i cantanti. Ma lei non è di Premeno. Io sono di Milano. Lei è di Milano. E come ha scoperto Premeno, dottor Sino? Ho scoperto Premeno perché avendo bambini piccoli da poter, da mandar via, per respirare l'aria buona, perché in Milano l'estate non si può vivere per il campo eccessivo. Siamo capitati lì, così, improvvisamente. Ci siamo trovati bene, ci siamo fermati. E l'avete addirittura fatto presidente della prologue. Ma questa è stata un po' una cosa che mi è capitata in testa l'anno scorso, proprio così di botto, pam, a un certo punto. Però mi diverto anche un po'. Ma il sindaco voleva precisare una cosa. Lo interrompevo per questo. Approfitto io di questa occasione per ringraziare qui proprio pubblicamente, e quelli di Premeno mi seguono in questo momento, il dottor Sidola, perché veramente si sta mettendo l'anima per portare a Premeno una nuova linfa. Il sindaco, la ringrazio a noi, il nostro sindaco, ma c'è il telefono che spina. Un attimo solo. Può darsi che siano degli amici di Premeno, eh? Pronto? Buonasera, sono la signora Meri. Sì. Vorrei prenotarmi per il quadro Naif. Ah, per il quadro Naif. Eravamo arrivati, Federica, che cifra per il nostro quadro Naif? Eh, 250. 250 mila. La signora da dove chiama? Da Pavia. Da Pavia. E lei si chiama? Meri. Meri. E la signora Meri offre? 300 mila. 300 mila per il quadro Naif della nostra vittrice. Grazie, signora Meri. Per lei, buonasera. Buonasera. Rimangi in linea con le nostre centraliniste un attimo. Grazie. Allora, non erano amici di Premeno, perché so che voi vedete molto bene Tele Montepenici a Premeno. Sì, sì, sì. La seguite abitualmente. Per bacco. E qual è il programma che vi piace di più di Tele Montepenici e che seguite più volentieri? Il programma che io già seguo già da qua. Questo slot machine, d'accordo, ma ci sono tanti altri programmi. Vediamo un po' tutte le stazioni a Premeno. E allora un po' giocate sui canali. Bene, allora amici telespedatori, appuntamento a Premeno per domenica 17 giugno. Al pomeriggio trascorreremo insieme un simpatico pomeriggio d'estate. Grazie, dottor Sigola, presidente della Proloco. Grazie al sindaco e auguri infiniti con questa fotografia che noi conserveremo qui, a Tele Montepenici, come ricordo di Premeno. Grazie, arrivederci. E nel frattempo, amici telespedatori, permettetemi di presentarvi il nostro secondo ospite. Ve l'avevo preannunciato all'inizio della trasmissione. È in arrivo con due canzoni, tratte dal suo ultimo 45 giri, un big della musica leggera, un personaggio che piace al mondo dei giovani e, perché no, anche dei non giovani, perché il suo aspetto di bravo ragazzo, le sue canzoni dall'aria romantica e leggermente sentimentale, hanno sempre fatto breccia sul cuore, soprattutto delle telespettatrici. A Tele Montepenici è con noi questa sera, ed è un piacere per me e per noi, Sandro Giacobbe. Grazie. 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 La colpa non è mia, con lei nessuno dorme e se ne va. Fu lei che mi lasciò, non sono stato io, chissà come mi va a quello che ha preso il posto mio. Amici non ne ho, per confidermi un po', e canterei ancora perché no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La televisione che hai fatto proprio ieri sera a Capodistria e che parti per la Liguria perché sei già travolto dalle serate. Ma sto facendo questo giro promozionale su questo 45 giri perché oramai queste televisioni liberi sono diventate importantissime, direi, perché la gente le segue sempre con maggiore interesse. E quindi per noi è diventato forse un lavoro molto più faticoso girare da un posto all'altro, però ne vale la pena perché si incontrano veramente tante persone e poi soprattutto si ha la possibilità di incontrarle da vicino, dal vivo. E questo è molto importante, è un rapporto molto umano che almeno a me piace. Senti Sandro, quella che abbiamo sentito era Canzonaccia. Canzonaccia. E la prossima che sentiremo invece si intitola, ed è il motivo sul quale credo che tu vada puntando per l'estate, si intitola Blu. Blu. Sandro Giacobbe è Ligure, Genovese, proprio di origine? Nato a Genova, i miei genitori no, sono meridionali. Mio padre è siciliano, mia madre è pugliese, io sono un incrocio nato a Genova. Senti, vogliamo ricordare quelle che sono state le canzoni che da 3-4 anni tu ogni estate vai lanciando? Ma ho iniziato nel 74 con Signora Mia, il giardino proibito, gli occhi di tua madre, io prigioniero, mi c'era la mia anima, volare via e adesso ho questo blu. Questo blu. Senti, a quale manifestazione sei maggiormente legato dal punto di vista del genere di musica leggera, televisiva, radiofonica, festival, spettacolo? Ma come forma così di spettacolo in veste festivaliera penso a Venezia. Alla gondola d'oro di Venezia. Perché è una manifestazione penso ancora eteriogenea e si può fare un discorso abbastanza ampio. E poi con la caratteristica di poterlo fare a livello internazionale. Internazionale, soprattutto questo, sì. Quindi è la cosa che io ricordo con maggiore nostalgia e simpatia, sì. E poi? Sanremo perché appartiene a questa massa di gente. La popolarità più vasta. Poi io l'ho fatto nel momento in cui andava quasi sfasciandosi questo festival, purtroppo, perché io ero molto affezionato. Saremo, me lo seguivo dal lontano, 49, quando sono nato. E però l'ho fatto, diciamo, volentieri perché era la possibilità di... Avevo la possibilità di così dimostrarmi per la prima volta, credo, alla massa, alla grossa massa del pubblico italiano. Senti, le canzoni che tu presenti di solito ogni anno hanno anche il tuo zampino oppure tu ti affidi ad autori, i tuoi prediletti, preferiti, eccetera? Tutte le canzoni che io canto le scrivo io. Per lo meno scrivo tutta la musica sempre, io faccio sempre le musiche. E collaborano per i testi a volte pace, a volte avogadro, però io in linea di massima parto già con l'idea basilare. Cioè il senso della canzone ha già una sua veste particolare prima di lavorare. Poi lui mi aiuta a mettere a posto determinati versi che magari io non ho queste possibilità perché non ho mai voluto approfondire il discorso in campo letterario. Ecco, tu però, a differenza per esempio di Corrado Castellari e di tanti altri, non hai mai scritto canzoni per altri. Hai sempre scritto canzoni per te. Quindi sei il vero e proprio cantante autore che si scrive le canzoni, se le interpreta e le lancia. In linea di massima sì, io ho iniziato così, però ho scritto anch'io per tante persone. Ah sì? Ho scritto, sì, per un gran varietà, per Gianni Dorelli, ho fatto un paio di dischi per Gianni Nazzaro, tra l'altro una che hai presentato tu, era questo sì che amore, al disco per l'estate, ancora quando c'è. A Saint Vincent. E poi ho fatto anche per Marcella, ultimamente ho fatto delle cose per Miguel Bosé. Ah sì? Sì. Questo ragazzo nuovo che dicono sia l'astronascente del mondo della musicologia italiana. Io ho fatto, lui ha fatto due LP e la canzone che l'anno scorso l'ha lanciato, Anne, aveva una canzone mia come retro. Ah ho capito. Senti Sandro, io volevo chiederti una cosa che di solito cerco di farmi spiegare un po' da tutti gli ospiti nei miei programmi, perché credo che sia... Cioè, oggi, secondo te, la musica leggera italiana, che momento vive? Che situazione è quella del mercato discografico? Tu sei sempre Cigidi, no? Sì. E' rimasto d'accordo, sono rimaste altre manifestazioni itineranti, però il mondo della musica leggera, che momento vive attualmente? Ma secondo me è un momento, credo, bruttissimo, perché il periodo che così tu hai detto, ne hai parlato, cioè quello della chiusura del blocco totale, forse, di determinate manifestazioni che servivano per lanciare i dischi per l'estate oppure per l'inverno con le loro manifestazioni, la maggior parte sono state abolite. Forse perché si cerca in Italia di far diventare un paese culturale, le canzoni forse... Si cerca, si cerca. C'è molta carenza di cultura, c'è molta carenza, ma io credo che le canzoni abbiano anche un loro scopo, un loro motivo di carattere sociale. Si, è giusto che ci siano programmi culturali, però è giusto che ci siano anche programmi di musica leggera. Anche, ecco, appunto, adesso invece le hanno cancellate quasi completamente. E quindi diciamo che per la vendita dei dischi questo è stato un colpo veramente notevole. In più c'è il fatto che con tutto l'avvento della musica americana, disco music, musica discoteca, eccetera, i cantautori perlomeno così della mia generazione o perlomeno delle canzoni di questo genere romantico, così, sono andati abbastanza... Han dovuto cercare un altro pubblico, certo, certo. Quanti dischi hai venduto, per esempio, di Signora Mia, tu? Signora Mia ha fatto circa 300.000 copie. E dell'ultima, quella dell'anno scorso? E volare via ha fatto 100.000. Ecco, vedi, c'è già proprio la differenza. Sì, però io devo dire una cosa, che ad esempio, mentre il giardino proibito, fino agli occhi di tua madre c'è stata una vendita sulle 300.000 copie. Quindi parlo di tre anni fa. Tre anni fa. Poi, da tre anni a questa parte, c'è stata la mia una vendita regolare sulle 150, 120, 100, a seconda di un successo. Di blu che cosa speri di vendere? Chiaramente un milione di copie. Ecco, e noi ti auguriamo con un applauso, mentre tu ce la fai ascoltare. Sandro Giacobbe con blu. Grazie. 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 Anche per Sandro c'è un souvenir da Terremontepenice e da Manuel Spott. Vedi Sandro che noi ci preoccupiamo sempre dei nostri ospiti, abbiamo avuto Sandro Giacobbe con noi, siamo stati felici di averti, auguriamo a Blu veramente tanto tanto successo e questo sarà un souvenir della tua serata. Alle cose belle che hai vinto in tutta la tua carriera, non è che sia lunghissima la tua carriera, ma hai già vinto tanti premi e tanti riconoscimenti e aggiungerai il riconoscimento di Terremontepenice. Ciao Sandro, complimenti, grazie di essere venuto, arrivederci. E io passo dal mio amico Piero perché avevo un appuntamento con Piero a proposito del cocktail mango da lanciare questa sera. Andiamo subito in diretta alle ore 23 e 18 a creare il cocktail di Piero. Forza, cominciamo con due di vodka. Il secondo era un po' scarso. Poi, questo è il mango. E uno di mango. Uno di mango, verdastro. Quindi sarà un cocktail di colore verdastro. Fai presto perché c'è il telefono, intanto che fai lo shakeraggio io rispondo. Pronto? Pronto, sono voi. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto, pronto. Ah, buonasera Giuseppe, adesso la sento bene, mi dica. Voglio sentire che si chiama Daniele, quel. Siamo d'accordo da sabato scorso. Giuseppe, lei è un uomo di troppa buona memoria. Esatto. Lei è troppo gentile, ma siccome è a base di mango, questa sera l'abbiamo chiamato mango. Non ma dammi, vai sentire più vecchio di quello che sono, Cristo. No, no, Giuseppe, io penso che venerdì prossimo lo chiameremo Daniele, vero Piero? No, stasera Daniele. Eh? È stato stasera Daniele. Ah, allora chiamiamo Daniele mango stasera, va bene? Daniele, Daniele stasera. Grazie Giuseppe. Prego. Allora, abbiamo shakerato il tutto con due dosi di vodka, una di mango. Adesso viene la nostra associatrice ufficiale, Federica, perché è lei che è demandata. Ah, ecco, c'è l'aggiunta e il tocco finale di Pinot, Pinot dell'Oltrepo Pavese, naturalmente. È il famoso Pinot che tutti conoscete della Rocca, dell'Oltrepo Pavese, denominazione di origine controllata. Io ci tengo a chiarire che stiamo sempre usando il Pinot della Rocca. Io ci tengo a questo vino, perché è uno dei migliori spumanti italiani che niente ha da invidiare ai tanto decantati champagne francesi. Ricordatevi, vivete in una zona dove con vino di denominazione di origine controllata nasce questo spumantino eccezionale, il Pinot dell'Oltrepo Pavese. Approfittatene perché non è facile. Se vogliamo invitare chi? Ah, Nadia, certo, Nadia. Vieni a fare l'assaggio, perché è sempre là da sola, poverino. Nadia, questo è per Federica, all'assaggio, questo è per Nadia e io mi unisco al brindisi in onore di Giuseppe che voleva chiamare questo cocktail Daniele e di tutti i nostri amici telespettatori. Buona domenica con il nostro cocktail di questa sera creato da Piero. Siamo su una cosa eccelsa. Esatto, veramente. Bravo, complimenti Piero. Ne prepari altri 20 o 30? C'è tutta l'equipe di Premeno che aspetta i cocktail. Bene. E adesso passiamo ad un avvenimento importante, amici telespettatori. Permettetemi di fare il banditore. Poco fa vi ho parlato di Premeno, della manifestazione in programma domenica 17 giugno, che praticamente non è domani ma è domenica prossima, ed ecco che Pavia lancia la città in fiore. Io spero che i nostri amici cameraman riescano ad inquadrare questa bella locandina che presenta praticamente il programma di sabato 16, domenica 17, lunedì 18, giovedì 21 e sabato 23 giugno. E' il grande giugno pavese a beneficio dell'Unicef, il grande organismo che quest'anno vi ricorda che è l'anno del fanciullo. E allora proprio in occasione dell'anno del fanciullo, in collaborazione con l'Unicef, la città di Pavia presenta sabato 16 giugno, e ci sarà la diretta televisiva di Telemonte Penice, Fiori e note per il mondo, un programma musicale in Piazza della Vittoria alle ore 21, con Piero Cotto, Lionello, Robi Matano, Coscarello e Polimeno, Augusto Martelli, Norris De Stefani, Paco, Mauro Bianco, Renato Pareti, Jeanette, Willi Morales e Walter Damore, con la grande orchestra di Revival Big Band diretta dal maestro Giampiero Ziglioli. Poi passiamo a domenica, alle ore 16 c'è la dimostrazione di arte floreale e alle ore 19 l'asta libera delle confezioni floreali. Poi lunedì 18 giugno l'omaggio a Vittadini della Corale Verdi al Teatro Fraschini alle ore 21. Poi giovedì 21 giugno al Teatro Fraschini, sempre alle ore 21, con un'altra diretta televisiva, il defile musicale della pelicceria Annabella di Pavia, con la presentazione in anteprima della collezione 1980. E io devo dire, ad onor del vero, che ringrazio il dottor Ravizza per avermi dato l'occasione di presentare questa eccezionale manifestazione giovedì 21 giugno. Purtroppo per precedenti impegni io sono a Pescara, ad un festival che si svolge a Pescara, e quindi ho dovuto, purtroppo, dichiarare forfè all'invito della pelicceria Annabella per questa manifestazione di giovedì 21 giugno al Teatro Fraschini alle ore 21, perché non solo avrete modo di vedere in anteprima la collezione, in anteprima mondiale, la collezione Annabella, ma avrete anche il teatro alla scala con Maurizio Luceri e Bruno Telloli, primi ballerini della scala di Milano, che faranno e eseguiranno i balletti diretti da Anna Prina. Poi, sabato 23 giugno, a Palazzo Bottigella alle ore 21, l'asta libera dei quadri a chiusura della manifestazione. Interverranno il presidente dell'Unicef, il sindaco di Pavia, il presidente dell'Associazione Commercianti, e la manifestazione è organizzata dall'Associazione Commercianti in collaborazione col patrocinio del Comune di Pavia, della Camera di Commercio di Radio Pavia di Telemonte Penice, con tutte le riprese dirette che Telemonte Penice dedicherà a questa manifestazione. Questa è la locandina ufficiale, e vi diamo di svolgervela davanti, il nostro cameraman sta inquadrandovela al completo, e io vi invito a seguire queste manifestazioni perché ne vale veramente la pena. Sono tutte ad altissimo livello e sono tutte degne della grande, meravigliosa città di Pavia. Abbiamo parlato di questa manifestazione, sono tornati nel... ...con un guasto che è saltato il ripetitore, con un guasto che è saltato il ripetitore. ...con un guasto che è saltato il ripetitore. Ah, allora è saltato un ripetitore. Ma non a Premeno. È saltato un ripetitore, un guasto qui a Pavia, quindi vorremmo ridare un momentino la linea agli amici di Premeno, che poco fa sono stati i nostri ospiti qui nel Salotto, per presentare le bellezze di Premeno, che è sul Lago Maggiore e sopra Intra, e per annunciare lo spettacolo del 17 giugno. Allora, riassumiamo velocemente il tutto, perché Mutarini mi ha detto che c'era un guasto sul Monte Penice. Per ripetere, 900 metri sul Lago Maggiore, sopra Pallanza e Intra. Sì. Raggiungibile velocissimamente da tutte le parti della Lombardia e del Piemonte. Dottor Sindaco, è di una forza unica, tatatatatata, come una macchinese. È un posto stupendo, una zona estesissima, tutta verde, è l'unica zona relativamente pianeggiante a monte delle cittadine rivierasche del Lago Maggiore. Signor Sindaco, la parola a lei... È un presidenza stupendo. Io non faccio che confermare quello che sta dicendo il dottor Sindaco. Quali sono le caratteristiche, diciamo, sociali di Premeno, è un paesino molto ospitale. È molto ospitale, come dicevo, Esatto, è la popolazione di circa mille abitanti. Sì. Le avevo detto poc'anzi che cominciamo a vivere intensamente la nostra stagione... Durante l'estate, giugno, luglio, sì. Allora diventiamo numerosi, diventiamo in circa 6.000 persone. 6.000, 7.000 persone. Di circa 5.000 villeggianti, insomma. Certo. È un paese che veramente è degno di vedere, in quanto che è sepolto in un verde lussureggiante. Ecco, riposante veramente. Dottor Rassido, la Presidente della Proloco, cosa c'è domenica 17 giugno? Un grandissimo spettacolo, combinato attraverso la conoscenza di una cantante, con il signor Daniele Piombi. E con Tele Montepenice. E con Tele Montepenice. E avremo Rosanna Fratello e il suo complesso, il duo Fatebene Fratelli, Franco Rosi, Laura Luca, Cristian, Giunni Russo, Santino Rocchetti, tutto ripreso da Tele Montepenice. Tutto ripreso da Tele Montepenice che ci offre questa grossa possibilità. Ecco perché anche abbiamo questi ospiti di Premeno. Ma Premeno vale perché ha poche costruzioni vicine una all'altra. È un centro abitato per più persone, ma immerso proprio nel verde. E diamo un'occhiata a una gigantografia di Premeno vista dalla parte del monte. Come vedete queste immagini del lago che c'è un po' di riflesso di questa gigantografia fotografica che naturalmente le telecamere non possono presentarvi molto bene. Però ecco, mi sembra in questo momento si veda bene questo paesino sepolto nel verde con la vista del lago maggiore. È un paesaggio stupendo che vale la pena di fare proprio, di fare nostro nei prossimi giorni con una visita a questo bel paesetto che è Premeno. Vi ringraziamo, speriamo che adesso vi abbiamo visto dappertutto. Ringraziamo anche noi per questa possibilità. Grazie, arrivederci dottor Sidero, arrivederci ragioniere sindaco di Premeno. E adesso la mia scaletta, amici telespedatori, mi dice che siamo al rebus per fuori rete. Inquadriamolo immediatamente dal nostro tronetto del grappeggia, questo rebus per fuori rete. Che cosa c'è in palio, Federica? C'è un buon acquisto di lire 25.000 della Casa della Lana, abbigliamento per uomo, donna e bambino da spendere nei negozi di Melegnano via Roma 34 e Sant'Angelo Lodigiano via Cabrini 9. Bene, allora eccovi subito in onda il nostro quiz del rebus che arriva per i nostri amici telespedatori di fuori rete, dovete indovinare le tre parole che compongono la frase che è composta di tre lettere, sei lettere e otto lettere. Pronto? 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 Allora non ci sentiva nessuno in questa telefonata, speriamo che da fuori rete possano entrare in contatto ancora con Telemonte Penice, inquadriamo di nuovo il rebus, eccolo qui, è una frase formata di tre parole, la prima parola di tre lettere, la seconda di sei lettere, la seconda di sei lettere, chi vuole giocare può chiamare 0382 4710 01 e vince quello che con un'enorme massa di parole ci diceva poco fa Federica. Allora vediamo di riassumere, Federica che cosa c'è in pallio? Un buon acquisto di lire 25 mila della Casa della Lana, più uno tessere con lo sconto del 10% sugli acquisti da spendere per tutto l'anno sempre nella Casa della Lana. Bene, chi c'è in linea vediamo? Vediamo chi vuole indovinare questo rebus che non è facile, io ve l'avevo preannunciato che non sarebbe stato molto facile il rebus per fuori rete, preghiamo il centralino di passarci le telefonate che sono in arrivo a Telemonte Penice, è una frase formata di tre parole, purtroppo non possiamo mettere in pallio questo Montepremi per altro premio, dovete proprio risolvere questo rebus, pronto? Pronto? Da dove? Da Milano. Da Milano, buonasera, lei si chiama signora? Angela. Signora Angela, vuole tentare a indovinare il nostro rebus? Vorrei vederlo, però posso appena acceso. Ecco, allora glielo riviamo in linea, eccolo qua, alzatemi per favore l'audio delle telefonate, siate cortesi? Signora Angela? No, non lo so, non lo so. Non ci siamo? No, non lo so. E' una, no. Eh? Scusate, ci sono due diavoli. Ci sono due diavoli? Ha ragione la signora Angela, ci sono anche due diavoli, però vede che nel riquadro c'è anche una statua a destra, che è la statua di Giunone, è un rebus non facile signora Angela. Solo, non lo so, fa niente, un'altra volta. Grazie signora. Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove? Da Crema, mi chiamo Dario. Come? Da Crema. Da Crema? Sì. Bene, lei si chiama? Dario. Signor Dario, buonasera, ben arrivato a Telemonte Penice. Bene. Lei ha cercato di individuare la soluzione di questo rebus? Io penso di sì. Mi dica. Una noiosa tiritera. Bravo! Bravissimo signor Dario. Alla seconda telefonata il signor Dario da Crema ha indovinato una noiosa tiritera. Non so come abbia fatto perché io non ci sarei certo riuscito. Mi vuole spiegare il perché? Un nano, sattiri. Sì? Sattiri e lì è una statua di qualcuno che è morto, quindi era. Era, certo, d'accordo. Una noiosa tiritera, Federica le ripete che cosa ha vinto. Un buon acquisto di lire 25.000 della Casa della Lana da spendere nei negozi di Meleniano, via Roma 34 e Sant'Angelo Lodigiano, via Cabrini 9, più una tessera sconto 10% sugli acquisti per tutto l'anno. Va bene, grazie. E la Casa della Lana ricorda inoltre che i suoi negozi sono aperti anche la domenica mattina. Signor Dario, grazie a lei di aver giocato, buonasera, rimango in linea con le nostre centraliniste. Bene, grazie. E adesso passiamo a fate il vostro quiz. Abbiamo la possibilità di offrirvi un, attraverso il settimanale Rete, che si occupa di programmi radio televisivi, sia di televisioni private, sia della televisione nazionale, di partecipare al nostro gioco inviando il vostro quiz. E noi abbiamo Raffaele Capuano di Via Mameli 22 di Busto Arsizio che è stato estratto questa sera. Che cosa vince Federica il signor Raffaele Capuano e che cosa vince chi indovinerà il quiz di Raffaele Capuano? Chi propone il quiz vince praticamente 10 kg di riso Mottarini e chi indovina il quiz vince un abbonamento a settimanale Rete per un anno. Se il quiz non viene indovinato, chi l'ha proposto vince anche il prezzo per il pubblico. Il premio, non il prezzo. Il premio. Allora bene Federica, quindi vediamo chi cerca di indovinare questo quiz. Il signor Raffaele Capuano, che già si è vinto 10 kg di riso Mottarini, propone questo quiz. Pronto? Pronto. Ah, al nostro amico Giuseppe. Allora Giuseppe, propongo il quiz del nostro amico Raffaele Capuano. C'è in pallio un abbonamento a settimanale Rete. Attenzione Giuseppe. Sì, sì. Mi sente? Sì. Quale uccello era sacro a Minerva e simboleggiava la saggezza? Oh Cristo, questo uccello. Oh Cristo. Giuseppe, Giuseppe. Quale uccello era sacro a Minerva e simboleggiava la saggezza? La civetta. La civetta Giuseppe. Bravissimo. Finalmente premiamo Giuseppe. Oh mio Dio signore. No, voi dovete sapere, amici telespettatori, che Giuseppe è sempre puntualissimo all'appuntamento con Telemontepenici. E per un motivo o per l'altro non ero ancora riuscito, credo, con slot machine senz'altro, ancora fargli vincere niente. Ma essendo sempre il primo... E' un po' handicappato, certo. Oh, ma di altri. Naturale. Grazie mille. Comunque la risposta era alla civetta e al nostro Giuseppe che adesso rimane in linea con le nostre centraliste. Noi spiccheremo un abbonamento per il settimanale Rete. Così lei correte a tutti i programmi settimanali di tutta la settimana per un anno. Va bene. D'accordo? E poi vedrà che arrivano anche 10 kg di riso mutarini. Ecco. Perché non li mandiamo solo a Raffaele Capuano, ma li mandiamo anche a Giuseppe. E li piglia volentieri. E li piglia volentieri il mio amico Giuseppe. Arrivederci Giuseppe. Un applauso. Abbiamo lasciato il nostro Giuseppe e la mia scaletta dice che dopo un breve passaggio per ricordarvi che il quadro del nostro amico Zeffirino Pollini, eccolo qui, contadino, olio 50 per 70, quotazione normale in galleria 900 mila lire, è arrivato per merito di chi? A quale quotazione? Della signora Rosa Bonetti di San Giuliano Milanese a 250 mila lire. Mentre il quadro Naif Tempera 50 per 70 di Elisa Stoppaocca, una pittrice che vive ed opera Cinisello Balsamo, dal titolo Pensando all'inverno, quotazione normale in galleria 1 milione e 200 mila lire, è arrivato a quale quotazione per merito di chi? È arrivato a 300 mila lire per merito della signora Meri di Pavia. Allora, la signora Meri ha offerto 300 mila lire per la tempera Naif, mentre la signora di San Giuliano ha offerto 250 mila lire per l'olio di Pollini. Aspettiamo le vostre offerte, potete farle anche nel corso degli spot pubblicitari che vanno in onda da questo momento. Lorenzo Macaluso, in bianchino, verniciatore e affini, rivestimenti plastici, ristrutturazione, fabbricati. Via Mazzini, Cava Manara, telefono 54351. Ai margini del ponte coperto, in un angolo della vecchia Pavia, ristorante e pizzeria Santa Lucia. Un locale nuovo, giovane e pronto a farti gustare tutte le sue specialità in un clima di cordialità e simpatia. E ti renderai conto che... Mentre andavo alla pubblicità è arrivata una cortese telefonata, io vi ho detto potete telefonare anche durante gli spot pubblicitari, Federica ce ne hai reso conto? Sì, ha telefonato il signor Tognoli Angelo di Gerenzago Pavia, è offerto 350 mila lire per il quadro di Zeffirino Pollini ed è arrivato a quota 350 mila lire anche per il quadro di Elisa Stoppaocca. Bene, allora abbiamo la quotazione aggiornata dopo quest'ultima telefonata per Zeffirino Pollini, il contadino che inquadriamo in questo momento di lire? 350 mila. E per invece, pensando all'inverno di Elisa Stoppaocca? Sempre a lire 350 mila. Bene, allora torneranno fra poco i nostri ospiti di colori d'arte qui nel nostro salotto, nel frattempo la scaletta mi dice che è il momento di presentarvi la nostra prossima ospite, è l'ultima ospite della nostra serata musicale perché poi avremo un appuntamento con il bagno idea quiz ed infine chiuderemo il nostro appuntamento con colori d'arte ed è una cantante, una cantante autrice che torna alla ribanta dopo un periodo di silenzio, ascolteremo la sua prima canzone dal titolo Storia di un fiore, è una cantante se volete un po' sui generis perché si scrive canzoni un po' particolari, ma di questo genere musicale parleremo con lei stessa fra la prima e la seconda canzone, Storia di un fiore da Graziella Calì, eccolo in arrivo. In quella stanza buia, in riva al vecchio fiume, un venerdì d'aprile che tu dormivi calma, tua madre ti tradiva, gelandosi al tuo fianco, correndo fra le braccia di un morbido tramonto. dolce una suora bianca, ti fece poi da mamma, una preghiera al giorno e i giorni tutti uguali, vent'anni eri un fiore, ma un fiore desolato, e poi uscisti al mondo ancora una bambina, ma nei tuoi occhi il sole, eri più bello ancora, tutto senza confini, la città, l'amore, di un fiore, eri a cervo, fior d'un fiore. Quaranta lunghi inverni hanno gelato il fiore. ma un verdi d'aprile cercasti primavera, la casa e il vecchio fiume li porta via la gente, fra strade senza fine, senza periferia. due occhi come il mare, ti scavano nel cuore, due mani sui tuoi fianchi, ti straffano quel fiore, che ancora coltivavi, con rabbia e con rancore. ma tutto dura poco, e le ombre della sera, coprirono quel prato, di una vergogna oscura, scalasti un duomo e via, libertà nel vento, veri a cervo, fior d'un fiore. e questa era Graziella Calì con Storia di un fiore, io faccio accomodare anche Graziella Calì nel mio salotto, anche perché credo che la prossima canzone si presti di più a essere presentata in ambiente salottiero. Sì, è abbastanza intima, ed è una canzone sulla donna, infatti il titolo è Sono donna anch'io, dal mio ultimo spettacolo, e è sull'abitudine coniugale, quindi un tema un po' particolare, l'invecchiamento dell'amore, eccetera, eccetera. Senti Graziella, parliamo un momentino di te, e parlano soprattutto i nostri amici telespettatori rivolte verso la telecamera 1, e raccontaci come mai sei sparita da un po' di tempo dalla circolazione del mondo della musica leggera, so che è arrivata anche una figlia, se non mi sbaglio. Sì, è per lei, sì, è per Arianna, che relativamente mi sono un po' ritirata, ho fatto però uno spettacolo abbastanza impegnativo, che ha deputato al Teatro Gerolamo di Milano, dal titolo Le canzoni delle donne carcerate. Da questo è nata l'idea di fare anche lo spettacolo sulla donna fuori, la donna però di tutti i giorni, quindi non è uno spettacolo di femminismo, ma proprio così, di sentimenti e di situazioni soprattutto. Ma forse potremmo dire che per Graziella Calice è stata una specie di osmosi con un genere col quale avevi iniziato, poi avevi lasciato, per dedicarti a qualcosa di più commerciale, e al quale invece sei tornata con un particolare serie di canzoni che non sono delle più commerciali, diciamolo pur tranquillamente. No, diciamo la verità. Ma penso che queste ultime, che io ho appena inciso, siano abbastanza commerciali, anche la prossima, almeno questo è il mio giudizio, poi vorrei che fosse anche, molto lo vorrei, quello del pubblico ovviamente. Cosa pensi delle cantanti così, che lasciano un certo genere e si affrontano invece anche come testi, temi piuttosto impegnati? Perché tu sei su questo piano. Sì, beh, penso che non possano vendere molti dischi, questo è vero, però una cantante anche così con l'esperienza affina alla propria sensibilità. Potrebbe essere questa una frase molto fatta, ma penso che sia questo il motivo che mi ha spinto, proprio a fare il mio spettacolo, il mio recital, di canzoni così, sulla donna. Può darsi che un domani mi verrà qualche altra idea. Per il momento penso che sia abbastanza così seguito, ecco, come tema. Senti, Graziella... Graziella, Calì come nasce artisticamente? Nasce molti anni fa, devo dire la verità, ma con la casa discografica Phonit, ho fatto un disco che poi è andato a finire in America anche, e poi ho avuto altre esperienze discografiche, insomma, molto estero, eccetera, eccetera, diversi festival. Uno di questi è stato nel lontano 67, la ragazza... no, era un festival di Vasto, dove aveva conosciuto Daniele Piombi, ed era... Ma questo forse non interessa un gran che ai nostri amici degli spettatori. No, era il festival delle cantautrici. Ecco, delle cantautrici, esatto. Il festival delle cantautrici di Vasto, e così proprio ho voluto dire che... Sì, bella memoria. Andiamo indietro nel tempo, ti sei ricordata una fase del nostro lavoro comune. Sì. Senti, Graziella, allora, arriviamo a Sono una donna anch'io. Abbiamo detto che ha un testo particolare che significa esattamente, lo ripetiamo per coloro che... Ah no, amici telespettatori, scusate un momento, Graziella mi pregava di dirlo, ma ha pregato anche Rizzi di dirlo, Franchi, Savioni, tutti gli amici di Telemonte Penice. Per coloro che avessero seguito il nostro programma per un po', poi ci avessero visto sparire, è perché un ripetitore dei tanti di Telemonte Penice è saltato per mancanza di corrente. Abbiamo provveduto a ridare la linea a questo ripetitore, a questo trasmettitore e adesso stiamo coprendo l'intera zona. Ecco perché abbiamo fatto tornare ancora una volta l'equip di Premeno che ci ha riraccontato tutte le bellezze di Premeno dove domenica 17 giugno per i bimbarabembaravara c'è una cosa favolosa. Però, dico, Graziella diceva, ma magari dillo perché quelli che per un po' hanno cambiato canale speriamo siano tornati a seguirci. Perché ci tieni in un modo particolare a Sono una donna anch'io. Perché è la sigla dello spettacolo, è la sigla dello spettacolo, eccetera. Allora, descriviamolo un momento per coloro che ci hanno seguito e facciamola sentire. Sono una donna anch'io, dicevo prima, rispecchia una situazione particolare che si verifica in tanti matrimoni della stanchezza o dell'abitudine, insomma. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Sono una donna anch'io, Graziella Calì. Grazie. Ma come fai l'amore tuo Sempre in fretta Senza me Per dovere o chissà che L'amore fai Qui con me Solita ora E poi, e poi Solita stanza E poi, e poi Solito letto E poi, e poi Solito buio senza luce Solita porta che non chiude Solita doccia che conclude Chiude E poi non chiude Sbatti le ali e vai E poi, a me non pensi mai Un istante Vale un anno Sono donna anch'io, voglio vivere, voglio amore anch'io. Fammi vivere, sono donna anch'io, voglio vivere, voglio amore anch'io. Fammi vivere, ma come fai l'amore tu, sempre in fretta, senza me. Solita ora e poi e poi, solita stanza e poi e poi, solito letto e poi e poi. Solito buio senza luce, solita porta che non chiude, solita doccia che conclude. Sbatti le ali e vai, a me non pensi mai, un istante vale un anno. Sono donna anch'io, voglio vivere, voglio amore anch'io. Fammi vivere, sono donna anch'io, voglio vivere. Graziella, complimenti perché ho trovato questa canzone particolarmente interessante, veramente. Sia come testo, sia come situazione, sia come novità e come coraggio di esprimere, perché la noia nel matrimonio non è una cosa difficile, è una cosa talmente facile che questa canzone la mette così bene in evidenza. E non solo nel matrimonio, anche nell'unione in genere, sì, chiaramente. Senti, Federica ha un omaggio per te, te lo facciamo consegnare da lei, mi unisco io per consegnarti questo omaggio di Telemonte Penice. Grazie di essere venuta con noi, molti auguri a Graziella Caletti. Arrivederci. Arrivederci. Io, amici telespettatori, passo sulla mia postazione abituale per potervi dare l'ultima possibilità di vincere che cosa, Federica? Dunque, il bagno idea quiz. Sì, che cosa vincono i nostri amici telespettatori? Qui, tu, chi vince settimanalmente un accessorio del bagno del valore di lire 120.000. Il bagno idea quiz ricorda inoltre che durante il periodo di slot machine questo accessorio sarà messo in palio al pubblico a lire di 100.000. Allora, amici telespettatori, potrete vincere addirittura quel popò di roba che c'è in esposizione alla nostra sinistra che i nostri cameraman hanno già inquadrato. Pronto? Pronto, posso fare a Maria Angela. Maria Angela da dove? Milano. Da Milano. In che zona di Milano, Maria Angela? Baggio. Baggio. Allora, Maria Angela, le propongo subito il bagno idea quiz. Ecco due serie di numeri. Li vede? Sì, sì, li vedo. Bene. Voglio che lei, ai due punti interrogativi, mi sostituisca i numeri giusti. C'è tutto un calcolo da fare, dove è specializzato Giuseppe, ma non è mai arrivato a vincere, e vediamo se Maria Angela di Baggio riesce a portarsi a casa il nostro Monte Premi del Bagno Idea. Esposizione in Piazza Guidi 3 e in via San Giovannino 13, Bagno Idea di via Folla di Sopra 15 Pavia. Attenzione, Maria Angela, voglio sapere che numeri mancano nella serie 2, 4, 11, 16 e nella serie 3, 7, 21, 31. Maria Angela, 10 secondi da questo momento. Maria Angela? Sì, sì. Quanti anni hai? 10. Ecco appunto, l'avevo capito dalla voce, possiamo darci del tu? Sì, beh. Allora, c'hai ancora 10 secondi, vai tranquilla, pensaci e mi dici che numeri mancano in alto, nella casella in alto e nella casella in basso. C'è tutto un ragionamento da fare, eh Maria Angela? Sì. C'è tutto un calcolo. Quanti secondi mancano, Federica? Ancora 5. 4? 3? No, non lo so. Non ci sei? No, no. Grazie, Maria Angela, salutami tutti gli amici di Baggio. Sì. Vediamo il prossimo. Buonasera, da dove? Buonasera, da Pavia. Buonasera, signora. Lei si chiama? Mariella. Lei ci sta vedendo? Sì, sì, ci sta. Senta, ha visto com'è elegante Federica stasera? Elegantissima. Tutto per merito dell'Equipo 84, la boutique di Pavia, ha visto? Elegantissima. Senta, lei si chiama, signora? Mariella. Signora Mariella, lei che cosa fa a Pavia? Insegno. Insegna? Non insegnerà matematica, spero, eh? Purtroppo no, per questo quiz no. Allora, signora Mariella, le do di nuovo sul televisore le serie dei numeri che il nostro diabolico ideatore di questo bagno idea quiz ci propone questa settimana. C'è due, quattro, poi un punto interrogativo, undici e sedici. Nella seconda fila di caselle c'è, come vede, tre, sette, punto interrogativo, ventuno e trentuno. Allora, io direi otto e quindici. È giusto? Signora Mariella, ma poteva dire qualcosa in meno, qualcosa in più, no? Capito? Vabbè, fa niente. C'è nata molto vicino Mariella, ma non sapevo. No, non sapevo, era indecisa tra due. Fra che cosa? Tra sette e tredici. Cosa facciamo? Tra sette e tredici. Cosa facciamo con la Mariella? Cosa facciamo? Senta, scusami Federica, signora Mariella, lei mi vede? Sì, la vedo, la vedo. Cosa faccio io adesso con lei? Lei deve sapere che il famoso dottor Peregrini, amico mio del resto, con il collega carissimo Mai Buongiorno, ormai hanno acclarato, hanno reso come legge inflessibile del quiz che la prima risposta è quella che conta. Ah, ma insomma... Lei mi ha detto otto e quindici, poi io le ho detto ma perché mi ha detto otto e quindici? E lei mi ha detto ma io eri incerta su sette e tredici. Guarda caso, sette è il numero che manca nella prima serie di caselle, tredici è il numero che manca nella seconda serie di caselle. E adesso mi dica lei, Mariella, che cosa... lei magari mi presenta un ricorso, va da un avvocato, viene con la carta bollata, mi denuncia per mancata corrisponsione di premio, Muttarini non mi manda più il riso, ma così inquadrate la Federica, ma io lo so, Marizzi, ma così inquadri la Federica, sto parlando con la signora Mariella, uè! Il senso di solidare con le donne, inquadrono le donne. Ha ragione! Ecco, dunque signora Mariella, cosa facciamo? Cosa facciamo? Cos'era il premio? No, c'è la nostra maga che è sempre presente, la signora Adeli Bianchi, che dal fondo della sala ha detto, diamo metà specchio. Non mi ci vedo, sono piuttosto sul grosso. Vede, il nostro premio è qui. Io dovrei, Federica, mi dai un po' di filo, per favore? Io dovrei dividere a metà lo specchio, dividere a metà il portasapponi, dividere a metà il portasciugamani, dividere a metà portacenero e metà salvietta, e dopo lei mi lincia, eh? Insomma, non mi ci vedo in mezzo, metà... Signora Mariella, aspetta. Sì, che... Lei che cosa vede a questo punto? Cosa vedo? Vedo lo specchio pulito. No, pulito parzialmente. No, volevo che lei vedesse tutto il nostro studio, perché io di qui vedo il Piero Barman... Eh, non si vede, non si vede il nostro studio. Senta, signora Mariella. Dica. Signora Mariella. Mi dica. Lei quanti anni ha? Io ho 31. È sposata? Eh, sì. Quanti bambini ha? Due. Due. Suo marito che cosa fa? Lavora anche lui. Lavora anche lui? Lavoriamo tutti. Avete un bagno così bello come questo del bagno idea? Eh, mi farebbe comodo. No, ma dico, l'avete già in casa bello, bello così? No, no, perché ormai quando si siamo sposati noi, ormai sono passati tanti anni. Signora. Mi dica. Mutarini, Rizzi, Savioni, Franchi, cosa facciamo? Pubblico, cosa facciamo? Va bene, d'accordo. Signora Mariella. Sì. Io voglio essere generoso, non vorrei che questo creasse un precedente, lei prima mi ha detto 8 e 15, poi mi ha detto, pensi che le volevo dire 7 e 13, per me io sarei stato inflessibile, ma qui sono generosi a Telemonte Penice, rispettano soprattutto una signora simpatica, gentile, graziosa, bella e brava come lei che ci ha telefonato e ha giocato con noi. Quindi le diamo il premio Bagno Idea con i nostri complimenti, grazie di aver giocato con noi. Come si chiamano i suoi figlioli, signora? La più grande è Simone, la più piccola è Cristina. Allora auguri a Simone e a Cristina, segua Telemonte Penice, rimangi in linea con le nostre centraliniste che provvede a prendere gli accordi per ritirare il Bagno Idea. Grazie. Grazie a lei, signora, arrivederla. Ecco. Erano 7 e 13, infatti, i numeri che mancavano nella nostra serie di caselle e noi abbiamo accontentato, anche se la legge del quiz è stata questa volta abbastanza generosa con la signora Mariella, abbiamo accontentato questa signora pavese o milanese, pavese, vero? Pavia. La pavia aveva telefonato, sì. E abbiamo consegnato ugualmente questo premio considerevole del valore di 120 mila lire. E a questo punto io vorrei di nuovo qui nel salotto Zeffirino Pollini ed Elisa Stoppaocca perché con loro vorrei chiudere la serie dei colori d'arte, ci sono i vostri microfoni qui, vediamo se arrivano qualche altra telefonata. Riassumiamo la situazione, quotazioni, Zeffirino Pollini, quotazioni in galleria 900 mila per l'olio contadino inquadrato in questo istante. Elisa Stoppaocca di Cinisello Balsamo, quotazioni in galleria 1 milione e 200 mila con questa tempera naif pensando all'inverno. Federica ci dà il riassunto delle cifre raggiunte con le relative persone che hanno offerto, credo che sia una unica. Sì, esatto. È il signor Tognoli Angelo di Gerinzago Pavia che ha offerto per tutti e due i quali 350 mila lire. Naturalmente l'uno, non tutti e due. Ha offerto sempre 350 mila lire sia per Zeffirino Pollini, sia per Elisa Stoppaocca, sia per contadino, sia per Pensando all'inverno. Vi ricordo che parzialmente questa cifra andrà a vantaggio e a beneficenza dell'istituto Benedetta Cambiaggio di Pavia che del resto abbiamo già, a questo istituto abbiamo già corrisposto parte delle offerte delle settimane precedenti e se non arrivano certe telefonate che possano aumentare l'offerta di questo signore della provincia di Pavia che ha offerto 350 mila lire, il signor Angelo Tognoli di Gerinzago. Io chiuderei qui l'offerte che sono pervenute. Signor Pollini, commenti, dichiarazioni da fare? Maestro Pollini? Ma io volevo aggiungere una cosa, lasciatemela dire, il mese scorso ho raggiunto a Cannes l'Oscar per la pittura in concomitanza col Festival del Fin. Questo ci fa molto piacere ma io volevo commenti alla votazione di 350 mila lire. No, ammiro questo signore, l'ammiro veramente perché fa una falla, anzi io volevo aggiungere un'altra cosa, se nel caso in cui fosse giudicato questo signore qua, tra sei mesi dovrebbe ritelefonarmi perché il quadro come vedete è senza vetro e io i vetri non li faccio mettere davanti ai miei quadri, però va ritoccato con una vernice particolare, quindi dovrei ripetere l'operazione una seconda volta, tra l'altro è una vernice che uso anche nei restauri. Questo fra sei mesi? Fra un sei mesi, sette, sette, sette mesi. E dovrebbe telefonare a chi? Eh, mi telefona, io vado all'anno, lo porto via. Forse non conosci il suo numero, signor Pollini? Beh, comunque poi si lascia l'indirizzo. Allora, telefona qui a Telemontepennice? Eh, se mi date l'indirizzo poi dopo il mio... Allora daremo noi l'indirizzo a lei, del signor Tognoli. Anche perché cambierò casa, quindi se gli do il numero di telefono poi magari... Benissimo, d'accordo. Lei telefonerà al signor Angelo Tognoli dicendo venga qui con la tela che mettiamo... Vado io, vado io, supporto. Lei vive qui in zona, no? Sì. Benissimo. Commenti e opinioni della signora Elisa Stoppa? Beh, avrei pensato qualcosa di più. Comunque sono contenta ugualmente e ringrazio la signora. Sempre il signor Tognoli? Signor Tognoli. E' sempre lui che ha fatto un'offerta di 350 mila lire per entrambi? E' anche il fatto che le abbia presi tutte e due. Va tutto a suo onore. Sì. Vero? Bene, e a questo punto, gentili amici telespettatori, con Colori d'arte, quest'ultimo passaggio, io aspettavo un'altra telefonata ma vedo che non arriva, vorrei solo una telefonata da Milano che mi potesse garantire che in questo momento sta seguendo Tele Montepenice. Così. Un saluto particolare di un abbonato, di un telespettatore milanese che volesse dirmi guardi, ricevo benissimo Tele Montepenice perché siamo stati un po' preoccupati da questa interruzione di corrente al ripetitore del Montepenice. Se qualcuno vuole dirci la sua testimonianza, signori di Tele Montepenice, amici di Slot Machine, vi stiamo seguendo, tutto procede bene, vi ringraziamo per questa serie di orette, abbiamo cominciato alle 21.45, sono quasi le 12.15, 12.10 circa, sono circa due ore, un quarto, due ore e mezzo che stiamo insieme. Vorrei un saluto da una telespettatrice o da un telespettatore milanese. Vediamo se arriva sul 47.10.01 con il prefisso 0382 che mi testimoni che a Milano ci stanno seguendo e che la linea di Tele Montepenice è seguita. Conto fino a 10. Uno. Ecco. Queste sono le soddisfazioni che dà Tele Montepenice. Pronto. 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 Ciao. Da dove? Da Milano. Da Milano. Sei? Io sono Gianni, quello che è il nemico contro il cacciatore. Ah, ho capito, Gianni il famoso contro la caccia. Sì. Carissimo Gianni, state seguendo Tele Montepenice a Milano? Sono a casa di Milano, vedo bene. Mi fa molto piacere. Primo mezzo. Ti ringrazio Gianni di questa testimonianza e ti auguro buon voto per domani per le elezioni europee e buona domenica. Sì, tanto a te e a tutti i giorni di Montepenice. Grazie Gianni, arrivederci. Ciao. E dal mio tronetto, assieme a Federica e a Nadia, io vorrei concludere, ringraziare... Ah, chiedo scusa, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, lei chiama da dove? Da Milano. Da Milano, ed è la signora o signorina? Signora Angela. Signora Angela. Lei, signora Angela, voleva fare un'offerta per colori d'arte o voleva dirmi che stava seguendo... In base alle trasmissioni, noi le vediamo malissimo. Ah, malissimo! Sì, è parecchio tempo e anche stasera tutta mossa e tutta lebbiosa, insomma, non si vede per niente. Tutta con la neve davanti, così? Sì, sì, sì. Lei in questo momento mi vede? Eh, no, perché è... Ah, lei... Ok, lei è in ingresso col telefono e invece il televisore è in salotto. Eh.